Ecco, questo titolo qualche decina d'anni fa sarebbe sembrato un po' assurdo, perché il rapporto tra intelligenza e creatività oggi sembra un rapporto plausibile, nel passato non lo era tanto, perché? Perché da una parte poteva sembrare in qualche maniera una ridondanza, per certe visioni, ad esempio quella di Piaget, l'intelligenza sarebbe sempre creativa, Piaget riteneva che quell'interesse nei confronti della creatività che si era sviluppato in un ambiente nordamericano nella seconda metà del Novecento fosse un po' una montatura, un bluff, fondamentalmente l'intelligenza è sempre alle prese con il cercare di adeguare gli schemi mentali a una realtà che per il bambino diventa sempre più ricca e sempre più complessa. Oppure da un'altra parte, intelligenza e creatività sembravano due capacità con nulla in comune, anzi che in qualche maniera entravano in competizione, per cui se uno era intelligente non poteva essere creativo e se era creativo non poteva essere intelligente. Una visione che ho ritrovato in un'immagine che Barbara Colombo mi ha mandato un po' di tempo fa, di una prova scolastica in cui l'insegnante dà questa valutazione, F nel sistema scolastico americano il voto più basso e però A più per quanto riguarda la creatività, la prestazione di uno studente che risulta scarso rispetto all'obiettivo di competenza scolastica, ma però mostra invece qualche cosa di inatteso che potrebbe essere valorizzato. Le sue risposte sono di questo tipo, ad esempio la prima domanda dice in quale battaglia è morto il generale Caster nell'ultima battaglia che ha combattuto? Dove è stata firmata la dichiarazione di indipendenza? In fondo alla pagina. Qual è la principale causa del divorzio? Il matrimonio. Allora, storia, scienze sociali, matematica, a che cosa somiglia metà mela all'altra metà? Oppure se vogliamo più andare nell'ambito decisamente dell'aritmetica, se tu hai tre mele e tre arance in una mano e hai tre arance e quattro mele nell'altra mano, che cos'hai? Ho mani molto grandi. Ci sembra che da un certo punto di vista l'avere questa arguzia, forse magari è semplicemente un sistema pratico per cavarsela laddove mancano le nozioni, sia una capacità che distinta, non ha nulla a che vedere con quella forma di intelligenza, di competenza che la scuola soprattutto si aspetta di sviluppare nei suoi studenti. Per cui il voto ufficiale rimane sempre quell'Effe e c'è però questa concessione a riconoscere questa cosa che qui viene chiamata creatività, c'è da interrogarsi se queste risposte sono da intendersi creative. Su un altro versante lo studente però mostra delle competenze. Come quindi se intelligenza e creatività fossero due ambiti di abilità distinte che in qualche maniera entrano anche un po' in competizione l'una con l'altra. Per cui se si è creativi si difetta di intelligenza e se l'intelligenza invece è presente questa ha un ruolo di inibizione nei confronti della creatività. In realtà negli anni 70 c'erano delle ricerche che anche Brunner ha poi ripreso e integrato nella sua prospettiva in base alle quali i bambini nel momento in cui entrano nel sistema scolastico e iniziano a potenziare quelle capacità di calcolo, di scrittura, di lettura, quelle componenti che vanno soprattutto a definire l'intelligenza accademica, via via perdono le loro capacità creative e immaginative come se l'avere una dote escluda l'altra. Ecco negli anni successivi però si è fatta presente un'altra prospettiva, quella della cosetta ipotesi della soglia, secondo le quali non c'è più una competizione diretta tra creatività e intelligenza ma l'intelligenza diventa un elemento necessario per la creatività. Allora se non si è molto intelligenti non si può essere creativi. Quando però l'intelligenza raggiunge un certo livello allora c'è anche la possibilità di essere creativi. Gli individui che hanno una certa intelligenza si trovano di fronte a un bivio se indirizzare queste loro capacità in direzione creativa o invece nel potenziare ulteriormente queste abilità collegabili al pensiero astratto e quindi raggiungere livelli di iperdotazione intellettuale. Quindi l'intelligenza diventa una condizione necessaria ma non sufficiente per essere creativi. Beh oggi che cosa si può dire? Dobbiamo riconoscere innanzitutto che se nel passato si poteva parlare di un'intelligenza generale oggi il discorso è più complesso senza condividere le teorie come quella di Garner però è un dato di fatto che l'intelligenza intesa come una capacità cognitiva generale poi va a svilupparsi a prendere una fisionomia particolare all'interno di specifici domini e la scuola è organizzata per per domini che diventeranno poi nei livelli successivi le discipline, nei livelli inferiori diventano i campi di esperienza. Però è innegabile che le capacità di base, le risorse di base di cui noi siamo attrezzati poi vanno a alimentare delle abilità più settoriali, quella matematica, quella pratica, quel condotto che trasporta queste energie di base, queste risorse di base negli specifici ambiti vedete a dimensioni differenti per cui sicuramente il contributo delle capacità di intelligenza generale è differente nei diversi domini. I domini sono anche alimentati poi dalle forme di abilità estremamente settoriali e particolari, pensiamo come potrebbe essere nell'ambito musicale l'orecchio assoluto o la capacità di riconoscere i volti, sono in genere delle abilità che presi isolatamente non hanno un gran significato, non rispondono a delle funzioni specifiche che però amalgamandosi con le abilità generali vanno a sviluppare delle competenze all'interno dei diversi domini e non dimentichiamo che poi i domini in qualche maniera anche interagiscono tra di loro per cui ciò che si viene a sviluppare all'interno di una forma di intelligenza va anche a contribuire indirettamente a ciò che si può sviluppare in un altro ambito. Se noi stiamo un po' su questa immagine meccanica ma spero cogliate l'aspetto unicamente didattico di ragionare sull'intelligenza in questa modalità e pensiamo che quindi all'interno di un dominio queste risorse che si hanno a disposizione possono raggiungere livelli differenti provenienti da risorse da fonti diverse, l'intelligenza generale, le abilità modulari a carattere estremamente specifico, anche gli apporti che arrivano sinergicamente dagli altri ambiti, dentro questa camera di combustione che è una forma di intelligenza abbiamo risorse che possono raggiungere livelli differenti. La cosa interessante, qui arrivo al tema specifico, è che queste risorse possono andare a orientarsi verso obiettivi differenti. Se noi immaginiamo questo cilindro dentro il quale ci stanno le risorse di cui abbiamo disposizione in un particolare ambito, come è contorniato una specie di anello magnetico, ecco questo anello magnetico può essere attivato su uno dei due poli, perché sicuramente queste risorse possono essere messe in campo per rispondere ad obiettivi come il riprodurre, l'applicare, il perfezionare. Le nostre risorse vanno in quella direzione, queste capacità vengono messe al servizio dell'acquisire dei modelli standard di provata efficacia, che lo studente è chiamato ad assimilare, a memorizzare e saper poi applicare nelle situazioni opportune, avendo al massimo la possibilità di perfezionare questa operazione di applicazione, diventando via via magari più veloce nell'applicare questi schemi cognitivi e relative risorse alle situazioni che si vanno presentando. Sicuramente noi nella nostra vita abbiamo bisogno di utilizzare le nostre risorse cognitive in questa direzione. Se sempre dovessimo trovare ex novo la via per affrontare diversi compiti, la vita sicuramente sarebbe molto più complicata. Fortunatamente i nostri progenitori, la cultura ha identificato delle schemi per affrontare adeguatamente le situazioni, la scuola ce li ha trasmessi e noi efficacemente le applichiamo queste situazioni. Però ci sono anche casi in cui invece non è sufficiente basarsi su questi schemi acquisiti e le relative capacità che ci rendono particolarmente abili nel replicare le risposte già messe alla prova. Abbiamo delle situazioni in cui invece è importante cercare di cambiare, di innovare o inventare. Sono le situazioni in cui fondamentalmente gli schemi acquisiti non si adattano più alle nuove circostanze e oggi si sostiene spesso che essendo accresciuto la velocità della trasformazione in diversi ambiti queste capacità di innovazione, di affrontare il nuovo sarebbero particolarmente importanti per cui le agenzie educative dovrebbero farsi carico anche di sviluppare nelle giovani generazioni questa attitudine a sfruttare le risorse cognitive per generare risposte nuove. Che cosa vuol dire andare in questa direzione? Vuol dire attivare quelle capacità che classicamente vengono associate al pensiero creativo, ovvero mettere a frutto le proprie risorse cognitive per produrre qualche cosa di nuovo e che abbia una certa utilità. Tanto per dare qualche esempio. Questa è una pagina di una rivista di divulgazione scientifica che racconta un po' di alcune novità. Ad esempio racconta di un nuovo sistema progettato per evitare gli tsunami sulle coste del Pacifico. In prossimità della spiaggia vengono collocati questi cilindri che servono per frantumare le onde e c'è anche un vantaggio secondario perché l'impatto di queste onde permette di essere tradotto poi in energia elettrica. Questo è un sistema nuovo per far fronte a un evento naturale che probabilmente esiste da tanto tempo che però si è segnalato all'attenzione soltanto a causa di eventi drammatici sviluppatisi negli ultimi decenni. Sicuramente chi ha inventato questo sistema basandosi su conoscenze di fisica, di ingegneria, di meccanica, di elettrotecnica ha prodotto qualche cosa di nuovo che ha una sua utilità. Magari non bisogna arrivare a produrre invenzioni di significato di portata sociale così ampia, qualcuno sta un po' più basso e sfruttando un po' un meccanismo simile, cioè l'impatto dell'energia fisica, ha ideato queste magliette da far indossare ai giovani quando assistono a dei concerti rock per cui l'impatto delle onde sonore viene recepito da questi sensori e traducono questa pressione in energia elettrica che ad esempio può servire per alimentare il telefono cellulare. Si parla infatti di una creatività con la C maiuscola, la creatività che viene espressa da persone eminenti nei loro ambiti e qui la città di Firenze è ricca di espressioni di questa big C creativity, poi c'è una creatività con una C intermedia che potrebbe essere la creatività che abbiamo visto nell'esempio precedente e una creatività con la C minuscola che è quella che si applica invece in contesti di minore significato sociale. Una creatività che magari ci risolve anche ad affrontare incombenze della vita quotidiana, l'altro esempio riportato su quella pagina è di un supermercato a Seul in cui il cliente viene dotato di una macchina fotografica passando attraverso i corridoi fotografa le etichette dei prodotti di cui ha bisogno, consegna la macchina fotografica e alla fine gli arriva a casa la spesa senza doversela portare faticosamente nei sacchetti. È anche una forma di creatività che in realtà non produce nulla di particolarmente utile però ha un significato perché magari ci fa sorridere e o gli amanti del surf o gli amanti dei cani magari possono anche trovare piacere nel scattare fotografie di questo genere. Raccogliendo quella pubblicità di un testo che ci è stato distribuito nelle cartellette, ad esempio c'è qui l'autrice di questo romanzo Wonder che dice nella sua presentazione dicendo vive a New York con il marito, due figli e due cani. Spero che siano elencati seguendo un ordine gerarchico e non soltanto cronologico. Quindi per i cani per certe persone possono avere anche un'importanza e quindi possono anche diventare occasione di una certa creatività nell'andarli a ritrarre per tenere delle foto a ricordo. Ma adesso il tema in questo contesto diventa più specificamente questo. Allora se in certe circostanze laddove le condizioni ambientali o la nostra curiosità e il nostro piacere ci fanno orientare le nostre capacità verso il polo della creatività, del variare, dell'innovare e dell'inventare. Che cos'è che si può fare nel ruolo di educatori per portare le persone a impiegare le proprie funzioni cognitive anche in questa direzione e non soltanto orientarle a degli obiettivi di riproduzione, di replicazione che comunque ripeto hanno un'importante funzione nella nostra crescita. Allora si tratta innanzitutto di far nascere un certo interesse, una certa curiosità, se non addirittura un certo gusto nei confronti del variare, dell'innovare, nell'inventare. Per nascere nei bambini e nei ragazzi un desiderio anche di avventurarsi in questa direzione. Ovviamente è meno rassicurante muoversi in questa direzione perché si corrono degli errori, la possibilità di sbagliare decisamente è superiore rispetto a situazioni in cui dobbiamo replicare cose che già altri hanno collaudato, ma forse poi c'è anche un certo gusto, un certo piacere nel trovare da sé nuovi modi per affrontare certi compiti. Allora come si può indurre nei bambini e nei giovani un certo desiderio di andare in quella direzione. Si possono in qualche maniera seguire delle procedure dirette, banalmente chiedendo proprio agli studenti di fare delle cose che vadano verso quegli obiettivi. Rispetto alle richieste usuali di conformarsi a dei modelli di applicare degli schemi di ragionamento, di soluzioni di problemi, delle stilemi espressivi consolidati, perché anche non chiedere invece di fare qualche cosa di nuovo, di risolvere un problema in una maniera diversa rispetto a quella canonica che è stata appresa, completare una composizione scritta in maniera differente, restituire l'elaborato scritto lo studente dicendo adesso le ultime cinque righe le scrivi in maniera diversa rispetto a come hai fatto prima. Allora si può forzatamente indurre lo studente anche a mobilitare la sua testa in una direzione non canonica. Si tratta anche laddove queste movimenti verso il polo creativo del pensiero si sviluppano spontaneamente anche di non cassarli subito, di non frustrarli e valorizzare queste incursioni che certi bambini da soli, senza che nessuno gli abbia chiesto, fanno verso quella direzione. Anche qui banalmente innanzitutto ascoltando le cose divergenti, magari strane, probabilmente in molti casi anche sbagliate, che i bambini hanno da dirci rispetto al loro modo di risolvere problemi, raccontare, esprimersi verbalmente. Magari valorizzandole anche cercando di cogliere ciò che di positivo ci può essere in quei tentativi di pensare diversamente. E poi c'è anche la possibilità in qualche maniera di indurre indirettamente il nostro pensiero a mettersi in moto in una direzione differente, non soltanto con obiettivi di replicazione. Ad esempio è stato condotto un esperimento curioso in cui ai soggetti era chiesto di prepararsi un panino, un sandwich, ad alcuni seguendo la sequenza abituale delle operazioni. Cioè prendo il panino, lo taglio, apro le due parti, taglio il salame, lo inserisco. Ad altri invece di variare l'ordine con cui queste operazioni venivano fatte. Poi sono stati sottoposti a un test di creatività ed è risultato che coloro che prima avevano svolto un compito familiare variando la sequenza delle operazioni risultavano poi più creativi nel test. Si può anche muoversi su una direzione anche più emotiva e ad esempio il presentare agli studenti dei casi problematici, delle domande aperte, delle curiosità è un modo indiretto per andare a sensibilizzare i bambini rispetto a questa forma di attività cognitiva. Certo le procedure dirette ci assicurano che il nostro studente andrà in quella direzione. Qui si tratta più di gettare dei semi che non sappiamo poi in quante menti attecchiranno. E anche il valorizzare l'aspetto narrativo, il raccontare gli episodi, momenti biografici della storia di artisti, scienziati, inventori, può far nascere in alcuni giovani un interesse, una curiosità anche rispetto all'innovazione. Molte persone, c'è un testo interessante, menti curiose, che raccoglie una serie di interviste fatte a persone che hanno raggiunto livelli di eccellenza nel loro campo artistico, scientifico, tecnologico. Molte delle domande riguardano la loro infanzia e molti di questi riferiscono che hanno maturato un interesse verso la scienza, verso la conoscenza proprio a partire dalla lettura ad esempio di biografie di uomini famosi. Sono possibilità che si hanno a disposizione per far maturare un certo interesse in questa direzione. Sempre in questo pieghevole leggo nell'ultima pagina una serie di frasi, una interessante perché va proprio a collegarsi a quanto stiamo dicendo. Viene riportata una frase di un certo James Tarber, che non so chi sia, dice è meglio conoscere alcune delle domande che tutte le risposte. Forse può essere anche pertinente il riferimento a un testo di Gorder, c'è nessuno, l'autore del mondo di Sofia. In questo ulteriore romanzo narra di un extraterrestre che capita sul nostro pianeta e ha un comportamento curioso. Ogni volta che un uomo fa una domanda interessante lui si inchina e dice che nel suo pianeta si dà importanza non tanto al trovare le risposte, ma piuttosto a far nascere delle domande interessanti. Un terzo passaggio. Per orientare il nostro pensiero in una dimensione creativa si tratta anche di smontare quelle barriere mentali che impediscono alle nostre risorse cognitive di andare in quella direzione. Dicevamo prima che è per tutti più facile ripetere ciò che altri hanno provato. Costa una certa fatica andare nel polo della creatività. Anche perché dobbiamo molte volte spezzare delle abitudini di ragionamento che imprigionano un po' le nostre potenzialità. E come che qui lo si può fare? Anche qui ad esempio andando, seguendo una via più diretta, ad esempio si può indurre attraverso training specifici la consapevolezza di quali sono le nostre barriere mentali. Anche qua riferisco dati di alcune ricerche recenti. I soggetti erano addestrati a seguire una pratica di meditazione volta a ampliare la mente, a diventare consapevoli di tutto ciò che sta attorno a me. Oggi c'è un certo interesse nei confronti della mindfulness, questo orientamento che cerca di sviluppare nelle persone una cresciuta sensibilità rispetto alla propria esperienza. Mentre altri erano addestrati a seguire una tecnica di meditazione focalizzata, che portava ad approfondire un settore specifico della propria esperienza. Coloro che avevano seguito pratiche di meditazione volte ad aprire la mente, ottenevano prestazioni migliori in un test di creatività che veniva poi svolto successivamente. Si tratta in qualche maniera anche di disinnescare quegli automatismi che hanno sempre la funzione di bloccare un po' le nostre strategie mentali. Ad esempio anche qui una ricerca interessante. I soggetti dovevano risolvere un compito, un problema, che richiedeva l'attivazione del pensiero creativo e alcuni erano invitati a pensare al problema in una lingua diversa dalla propria. Coloro che pensavano in una lingua straniera riuscivano più facilmente a trovare la soluzione creativa al problema. Perché? Perché quando io utilizzo una lingua diversa tutti quegli automatismi che sono legati anche al codice linguistico che mi è familiare me li porto appresso. Se uso una lingua straniera entro in un ambiente mentale differente e il mio pensiero ci guadagna in termini di flessibilità. Ma anche in questo caso si può agire indirettamente su degli elementi di contorno. La creatività ha anche una base biologica, è un processo cognitivo mentale che però si radica anche nel nostro corpo e oggi c'è un notevole interesse in certi ambiti verso la cosiddetta embodied cognition, cioè i processi cognitivi così come sono incorporati nella nostra struttura somatica. Ad esempio un po' di anni fa qualcuno ha messo in luce nella popolazione femminile che i livelli di creatività aumentano nella fase preovulatoria, confrontano le altre fasi del ciclo ormonale. Una spiegazione che è stata data è perché una certa dose di creatività è utile nel momento della scelta del partner con cui riprodursi, non so se sia una spiegazione plausibile. E' certo che comunque la creatività ha anche una base fisica e anche qua studi recenti mostrano come le posture o i nostri comportamenti motori non sono indifferenti rispetto poi all'attivazione del pensiero creativo. Anche qua nella ricerca i soggetti venivano invitati a fare movimenti particolari, questo studio indagava una serie di movimenti, ad esempio semplicemente muovere la mano in su e in giù. Molte volte si dice che la creatività richiede il considerare una situazione da punti di vista differenti. Le persone facevano questo movimento oppure leggevano il foglio delle istruzioni che era su due facciate per cui dovevano girare il foglio contro la situazione in cui il soggetto teneva la mano ferma o aveva le istruzioni riportate sull'unica facciata del foglio. Oppure un altro esperimento, i soggetti prima di affrontare il compito che richiedeva creatività camminavano per due minuti seguendo un perimetro rettangolare lungo i bordi della stanza oppure camminavano liberamente. Tutto questo ha poi degli influssi sulla prestazione creativa. Coloro che facevano dei gesti o avevano un comportamento più libero, meno controllato, risultavano poi più creativi nelle prove che svolgevano successivamente. Quindi il secondo elemento è cercare di indurre nei bambini e negli studenti una certa disposizione a muovere i propri pensieri in una maniera più fluida, più flessibile, più dinamica. Però, terzo e ultimo passaggio, non basta rompere le barriere. Queste risorse cognitive che noi abbiamo a disposizione vanno in qualche maniera poi organizzate. Occorre in qualche maniera un insieme di strategie, un approccio sistematico affinché queste risorse possano dare i propri frutti. Seguendo questa immagine dobbiamo anche mettere ordine in quell insieme di risorse che noi abbiamo a disposizione. E quindi si tratta anche di sviluppare negli studenti un approccio da seguire intenzionalmente per arrivare a risultati creativi. E qui sicuramente oggi abbiamo a disposizione una molteplicità di tecniche, di metodi che possono essere applicati per indurre il nostro pensiero a muoversi in direzione creativa. Ad esempio, una tra le tante, il metodo delle catastrofi. Voglio raggiungere un obiettivo. Che cosa posso fare? Anziché cercare di trovare la via diretta per raggiungere quell'obiettivo penso a tutto ciò che invece potrebbe allontanarmi da quell'obiettivo. Trovo tutte le cause che possono aggravare il mio problema. Poi posso cercare di capire che cos'è che può eliminare quelle cause in questa maniera avvicinandomi al mio obiettivo. Un esempio storico. Quando nell'Ottocento, per sollevare le sorti dell'economia francese, il ministro Turgot aveva deciso che gli agricoltori avrebbero dovuto dedicarsi alla coltivazione delle patate, perché offriva una serie di vantaggi. Aveva imposto agli agricoltori di coltivare le patate e questi non ne volevano sapere. Erano abituati a coltivare altri prodotti e diciamo prima la resistenza al cambiamento. Non si sono opposti a questa imposizione. Turgot ha cambiato strategia. Ha cercato di perseguire l'obiettivo opposto. Ha detto, va bene, allora voi non volete coltivare le patate. Io permetto di coltivare le patate soltanto alle aziende agricole di Stato. I contadini non possono coltivare le patate. A questo punto tutti i contadini hanno voluto coltivare le patate. Non soltanto le aziende di Stato. Anche noi vogliamo coltivare le patate. Quindi il mio obiettivo è indurre i contadini a coltivare le patate. Che cosa faccio? Non li obbligo, non seguo la via diretta, ma faccio giusto l'opposto. In ambito aziendale, ma anche in ambito formativo, talvolta si possono applicare strategie che obbligano i nostri studenti a deviare dal loro corso abituale di pensiero. E si possono indurre gli studenti anche ad essere abili a gestire essi stessi, da soli, queste abilità. Le capacità metacognitive, classicamente studiate in ambiti di cognizione fredda, la memoria, i processi di ragionamento, l'attenzione, sono ultimamente stati oggetto di indagini anche nell'ambito della creatività. Mostrando che se lo studente viene indotto a riflettere su come la sua mente funziona, quando deve produrre degli esiti creativi, diventa autonomo nell'applicazione di queste strategie. E si può anche seguire una via indiretta, cioè cercare di mettere fuori uso quelle strutture mentali, quei processi mentali ipercontrollanti che vanno a inibire la creatività. Questi processi di controllo, di rigida pianificazione del comportamento, che hanno una loro utilità, sono principalmente collegate alle aree frontali della nostra corteccia cerebrale. Ci sono varie ricerche che mostrano che se il funzionamento di queste aree cerebrali, soprattutto quelle collocate nell'emisfero sinistro, viene inibito, allora si ha una maggior possibilità di arrivare a dei risultati creativi. Questo capita purtroppo per cause patologiche in alcuni pazienti, i pazienti con la demenza frontotemporale, in cui per cause neurodegenerative i lobby frontali iniziano a perdere capacità di funzionamento adeguato e questi iniziano a manifestare delle attitudini artistiche creative che mai avevano manifestato nella loro vita. Però laddove queste funzioni di controllo si indeboliscono, la parte creativa che dorme in ciascuno di noi ha delle possibilità di esprimersi. E' possibile fare questo anche in soggetti normali attraverso la stimolazione transcranica, è possibile o generando dei campi magnetici o facendo passare direttamente la corrente in specifiche aree cerebrali produrre una loro iperattivazione o ipoattivazione. Si è mostrato che interferendo con il normale funzionamento delle aree corticali della corteccia sinistra attraverso questa stimolazione le capacità creative aumentano. Ovviamente la proposta non è di collegare a scuola i cervelli dei nostri studenti a questi stimolatori. Però c'è l'ultima possibilità che è quella invece, con metodi diversi, di andare a stimolare quelle aree cerebrali, quelle funzioni cognitive che sono di supporto alla creatività, soprattutto cercando di inibire quel ruolo controllante e iperrazionalizzante che hanno altre nostre funzioni cognitive. Allora, per riassumere, noi abbiamo a disposizione due grandi possibilità, due grandi modalità attraverso le quali noi possiamo utilizzare le nostre risorse cognitive. In molte circostanze la creatività è fuori luogo. Dobbiamo piuttosto utilizzarle nella maniera più adeguata, ripetendo ciò che qualcun altro ci ha insegnato o ci sta cercando di insegnare. Ci sono delle situazioni nelle quali forse vale appena invece muoversi in un'altra dimensione. E probabilmente nell'ambito della scuola si tratta di stimolare negli studenti entrambe le modalità di pensiero e soprattutto poi la capacità di individuare quali sono le situazioni in cui è più pertinente una modalità di pensiero piuttosto che un'altra. C'è un passaggio in uno dei racconti di Sherlock Holmes, anche questo me l'ha segnalato Barbara Colombo, in cui ci sono Sherlock Holmes e il dottor Watson che si accampano in un prato. Nel cuore della notte Sherlock Holmes si sveglia, capisce che c'è qualcosa di strano e dà una gomitata al dottor Watson per svegliarlo. Dice, Watson, guarda il cielo, che cosa inferisci? Guarda il cielo e dice, dal punto di vista meteorologico prevedo che domani ci sarà bello. Dal punto di vista astronomico rilevo che Orione si sta avvicinando all'Azimut. Dal punto di vista filosofico mi suggerisce l'idea che l'universo è infinito e noi viviamo su un piccolo granello di sabbia e va avanti in questa direzione. Sherlock Holmes lo blocca e dice, Watson, la cosa più immediata da capire è che ci hanno rubato la tenda. Allora, in certe situazioni va bene divagare, in certe situazioni va bene invece seguire un pensiero pratico dagli esiti immediati. e sta alla scuola a portare gli studenti a capire quando è meglio ragionare come il dottor Watson o come Sherlock Holmes. Grazie. 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 Grazie.